Ah, che splendida giornata! Il sole splende nel cielo! Sì, il so... ...o...o no... Che cosa succede, amore? Corri a casa, amore! Devi scappare, lui sta arrivando... Ehi, la! Vuoi? Oh...ciao, Maxwell! Ehi, cos'è quella riabbattuta, amico? Non mi direi che sei... ...Blu di tristezza? Ho! Eh, sì, ok, senti, ho dei problemi ultimamente, quindi non dovresti... Eh, lo vedo! È la casa piena di polpi! Sì, ok, passerò anche su questo! Cosa? Non riesco a sentire? Forse per il tuo culo enorme? Ah, ascolta, mia moglie è in casa che non sta bene, quindi non puoi... Ah, capisco! Però la sento urlare per gli zombie che ci sono nel tuo cortile! Ah no, aiutatemi! Oddio... Ah, quanto pare essere un passimo padre di famiglia! Tuo figlio dovrebbe essere super armato e incazzuto, anche! Che rassa di problemi hai? Cosa? Io non ho problemi! Sei tu che hai una potana morta davanti casa! Dimmi...perché mi stai facendo questo? Non lo so...forse perché hai la famiglia di Goofy? Ma porca... Ma non preoccuparti, sei tu il padre di quei Goofy, no? Che rassa di mostro sei tu? Forse quello che intendevi dire è... Ho! Chi diavolo sei tu? Sai, ho sta per il braccio del Goofy? Allora...